E' stato il fiuto di Nastia, un pastore tedesco specializzato nella ricerca esplosivi, a far ritrovare all'interno di un garage, nella disponibilità di un 32enne palermitano, già noto alle forze dell'ordine, circa 80 kg di materiale esplodente. L'operazione, che ha consentito di sequestrare 500 artifici pirotecnici, 100 passafiamma pirotecnici, 100 micce e diversi altri materiali, quali centraline, rastrellieri e vari accessori, è stata condotta dai carabinieri della stazione di Partanna Mondello, in provincia di Palermo. Hanno collaborato anche i militari del nucleo cinofili e gli artificieri antisabotaggio. Il 32enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione di materiale esplodente e l'arresto è stato convalidato dal GIP e il Tribunale di Palermo.